segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te hanno invasione dell'ucraina di cui la russia è esclusiva responsabile indipendentemente dalle cattive maniere che ci sono state chi passa una frontiera per invadere un paese vicino deve essere condannato da tutti non si possono regolare i problemi delle frontiere in europa con la violenza prima cosa seconda cosa ora lei e io abbiamo un motivo di aver paura perché come combattono lì potrebbero attaccare le centrali nucleari se quelle di zaporizia per esempio noi abbiamo bisogno questa è la posizione di de magistris dell'unione popolare noi vogliamo che i caschi blu dell'onu vadano a proteggere la centrale da parte mia io lo dico dall'anno scorso però il presidente della repubblica francese non mi ascolta non mi ascolta abbastanza dovrebbe ascoltarmi di più perché lui è giovane io ho più esperienza di lui nei momenti complicati della vita ecco perché io dico oggi c'è un interesse generale umano la pace i russi devono uscire dall'ucraina e le centrali nucleari devono essere protette contro la guerra questo è il nostro interesse di tutti ecco quello che l'unione popolare difende che i russi devono uscire dall'ucraina e poi in un passaggio successivo non che non è stato messo per intero aggiungeva cioè melanchon era favorevole anche diciamo al ricorso alle alle armi ma guardi noi abbiamo l'unica posizione come unione popolare italiana che è differente da quella del quadro politico di meloni letta e gli altri per capirci al di là delle differenze da campagna elettorale se vince meloni o vince letta la politica nei confronti della nato nei confronti dell'ucraina la russia sarà sempre la stessa e quindi avremo poche prospettive di pace in tempi rapidi noi siamo invece assolutamente netti nella condanna dell'invasione di putin che è in violazione del diritto internazionale il concetto che putin deve uscire che putin deve uscire dall'ucraina che ha detto con questa nettezza melanchon lei lo condivide ma melanchon fa un ragionamento che facciamo tutti cioè che è chiaro che chi viola la sovranità nazionale di un paese deve ritirarsi poi c'è il tema delle autonomie questo è un tema che sanno tutti cioè se si vuole trovare una fine al conflitto bisogna riconoscere una forte autonomia autodeterminazione alle comunità del donbass e della crimea e fare dell'ucraina lo dice anche melanchon il luogo in cui l'onu entri con i caschi blu e diventi uno stato non solo non solo a zaporizia io dico anche che l'ucraina possa diventare in questa drammatica crisi l'opportunità del primo paese denuclearizzato ponte di nuovi rapporti tra occidente e oriente cioè senza russia noi non saremo mai un'europa forte dal portogallo alla russia saremo sempre più subalterni aspetti che c'è salvatore marlo che voleva aggiungere un momento salvatore marlo che voleva dire qualcosa no no stavo sorridendo mi ricordo che anche di napoli lei diceva che era il ponte tra l'oriente e l'occidente si ricorda sindaco sì no anzi la ringrazio molto perché io feci una cosa e pur un po' derisa ma secondo me aveva un segnato significato importante il 2016 facemmo una delibera di giunta comunale poi approvata anche dal consiglio in cui dichiarammo il porto di napoli denuclearizzato è chiaro un sindaco non può cambiare il mondo e fermare le porta aerei però fu un segnale il porto di napoli accoglie così come ci opponemmo all'ordine illegittimo del conte 1 quando ci voleva ordinare di chiudere i porti non accogliere le navi che salvavano i migranti e farli morire in mezzo al mare il la pace si costruisce dal basso non solo solo i governi che sono legati a poteri forti se dal basso dalle città dalle comunità dai partiti veramente pacifisti costruiamo l'europa della corsa al disarmo un'altra cosa che noi faremo telegrafico bisogna firmare il trattato della messa al bando delle armi atomiche nel nostro paese cioè dalla fine della guerra fredda possiamo decidere noi italiani però diciamo le armi atomiche oltre che le centrali nel nostro territorio diciamo che c'è un contingente che richiama in questo momento poi come dire a posizioni più rapide e a decisioni anche più laceranti come come quelle che stiamo assistendo che sono state prese ma diciamo quelli di cui lei parla sono progetti più a lunga scadenza a lungo termine mi sembra rispetto a quello che sta accadendo in questo momento però stiamo stiamo anche analizzando seguendo il filo del che se è vero alessandra che poi quando noi parliamo della guerra in ucraina e quando la nostra politica parla della guerra in ucraina sappiamo bene che l'italia che è certamente un paese importante fondatore dell'unione europea però in realtà non può nulla quindi poi la politica estera è la guerra il conflitto russo ucraino nella nostra campagna elettorale diventano anche un tema così di chiacchiera libera in gran parte e anche forse anche se questa volta anche priva di conseguenze se posso dire questo